Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul canale questo fine settimana sono venuti al campeggio Riva dei Bouttili qua sulla costa toscana, più esattamente a Follonica è un campeggino veramente bellino, non è grandissimo però è veramente ombreggiato è a due passi dal mare, quindi possiamo andarci a piedi tranquillamente c'è la zona barbie cru, c'è la zona carico e scarico del camper è immerso nel verde, quindi ci sono veramente molti spazi di ombra dove mettere le nostre tende, camper, insomma o con qualsiasi mezzo venite qua ci sono le docce, ci sono tutti i servizi veramente bellini anche se le docce sono calde però con il gettone è veramente un campeggio veramente bellino da passarci un fine settimana o se no perché no anche le nostre ferie quindi vi lascio la descrizione, in descrizione video il campeggio se vi dà un'occhiata vi lascio le coordinate, insomma l'indirizzo del campeggio così potete vedere anche i prezzi e tutto noi ci siamo stati veramente bene perché è un campeggio molto molto tranquillo quindi ci sono adatto anche ai bimbi e poi dà la possibilità di portarci anche i nostri amici a quattro zampe quindi sono molto adatti per i cani quindi se avete un animale qua è ben accetto perché c'è tutto quello che concerne i nostri amici pelosi c'è naturalmente anche il bar, non c'è il ristorante però c'è il market c'è una piccola zona giochi per i bimbi quindi è un campeggio che a noi ci è piaciuto ci siamo stati veramente bene un fine settimana di relax e poi l'acqua qui ragazzi è veramente spettacolare perché va giù piano piano quindi non è subito fonda e per i bimbi piccoli specialmente è perfetto perché possiamo farli stare nell'acqua senza pensieri bene ragazzi fatemi sapere se ci siete stati fatemi sapere cosa ne pensate qua nei commenti mi raccomando un bel like al video se questo video vi è piaciuto iscrivetevi al canale per non perdervi le ulteriori notifiche e le novità che ci saranno perché ci saranno novità per quanto riguarda il camper non vi dico altro restate sintonizzati perché ci saranno come vi ho detto novità ciao ragazzi